Dal 26 al 29 di ottobre si sono svolte a Torino le giornate del premio Morione, laboratorio di giornalismo investigativo dove gli under 30 hanno avuto la possibilità di realizzare le loro inchieste grazie al sostegno di tutor esperti. I progetti finalisti, a cui sono stati assegnati 4.000 euro ciascuno per la realizzazione, sono stati in tutto 5. Oggi vi raccontiamo il progetto Scatole Cinesi nella categoria inchiesta multimediale, realizzato da Margherita Capacci, Ludovica Meacci e Sofia Turati, che è nato dalla volontà di indagare l'influenza cinese nel mondo accademico italiano. L'inchiesta ha scoperchiato appunto le scatole cinesi che nelle istituzioni e nella società civile legano l'Italia con la Cina. Ascoltiamo ora le parole di Margherita Capacci nell'intervista. Qual è stato l'impulso che vi ha portato a scegliere il tema della vostra inchiesta? Allora, io e Sofia Turati siamo partite principalmente da una notizia che abbiamo trovato nei nostri studi in Olanda, cioè gli studenti dell'università che protestavano per gli istituti Confucio instaurati all'interno stesso dell'università e ci siamo chieste ma com'è possibile che nel resto d'Europa questi istituti chiudano e in Italia non se ne parli assolutamente. E da lì siamo partite e abbiamo trovato molto di più in realtà di quello che ci aspettassimo. Quindi qual è la realtà che emerge dalla vostra inchiesta? La realtà che emerge sono una serie di ingerenze e influenze del Partito Comunista cinese nella realtà dell'Accademia, delle istituzioni e delle associazioni italiane che molto spesso però rimangono nascoste o sotterranee. Certo, e quali sono state le principali difficoltà e criticità che avete avuto durante lo svolgimento dell'inchiesta? Credo che per ogni inchiesta ci siano molte difficoltà. Le nostre sono state principalmente nelle richieste FOIA, cioè di accesso civico generalizzato, a farci inviare i dati e nel cercare di andare poi a parlare con queste persone che non ci sembravano fare tutto alla luce del sole e molti non ci hanno risposto e uno in particolare è proprio scappato fisicamente dall'intervista e soprattutto poi andare a raccogliere tutto questo materiale che abbiamo raccolto in questi diversi aspetti della società italiana, andarlo a raccogliere in maniera comprensibile diciamo.